...delle grafie e credo che come tutte le... E' un eletto questo che torna a merito, che tra il 1972 e il 1970 può essere definita non solo intelligente, grazie a Fringuellini e a Gino Villani, che è la Presidente della Proloco, che è candidata da infatti allora ai 170 di oggi, probabilmente è quello che ho già detto, buongiorno, quello che è il 1976 di Stapa 3 del Sindaco Negri alla parte dell'amministrazione locale, degli enti locali di questo genere. Allora, 40 anni fa era molto più di barba e in quel tempo, in quel periodo, individuavano e definivano persone molto spesso ambulanti, dalla curatrice, la dottorezza professoressa dall'acqua. Io ho fatto di tutto in Tugia, a fare manifesti per tutti e... Ma che oggi, in questo esempio, è il punto che si definiva... ...si definiva... ...quaccio è perché Dio scrive a trovare sopra le cose che non lasciamo, anche come Dio. Non è in tutto. Alla fine, credo che l'ha venuta le grazie, al di là della giornata più che quella di domani, gli odori strani, le giostre, le messe... ...comi voglio rappresentare... ...sono io. Ora è, cambia tutti gli anni, per me tutti gli anni c'è una malità. 163, il pellegrino Scansani si è fermato su moltissimo. Cioè, grazie è... Perché il percorso, se lo riprende... ...a grazie, è un percorso che parte... ...e lungo questo percorso, dove si vive un aspetto ambientale naturalistico unico da questo punto di vista... L'anno scorso, quando io mi sediai dietro i diversi anni, mi dico... ...a grazie.